Ragazzi ma, il finale è 3.000 e 3 a punti. Torniamo con i punti. Guarda la campana. Nel prossimo punti di meno. 11. E lì la finita parte con gli amici. Parte con gli amici. E poi andiamo con il momento con lui. E' partito, stavolato. E via. E poi gli punti. 11 per questi ragazzi. 27, 3, 4, 3. 27, 3, 4, 3. Vai, Angelo! Arrivata. Non si viene mai niente. 149, 2, 8, 6. 149, 2, 8, 6. Noi canzoni. Noi canzoni. Noi canzoni". – rumore« e qui abbiamo due punti per il lavoro Niccolò Ogrenga Grazie a tutti 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 Grazie a tutti